Ingredienti per 4 persone cremoso al cioccolato con crumbe di castagne. Per la riduzione di percento in brulee. 100 g di farina di castagne, 100 g di farina 0, 0 debole, 100 g di burro, 100 g di zucchero di canna, 5 g di sale. Preparazione cremoso al cioccolato con crumbe di castagne. Cremoso al cioccolato con crumbe di castagne. Per la riduzione, mettete tutti gli ingredienti a bollire a fiamma bassa fino a ottenere una salsa densa. Filtrate e lasciate raffreddare. Per il cremoso, scaldate il lattetino a bollore con vaniglia e cannella in infusione. Rimuovete gli aromi. Versatelo sul cioccolato tritato ed emulsionate con il mini pimer. Aggiungete la colla di pesce precedentemente ammorbidita in acqua fredda e strizzata, emulsionate con il mini pimer, unite il mascarpone, emulsionate di nuovo e lasciate riposare per almeno 4 ore. Per il crumbe, mescolate tutti gli ingredienti. Formate un panetto. Lasciatelo riposare per ora. Poi sbriciolatelo con le mani, ci cuocete per 10 minuti a 180 gradi. Impiattate come nella foto.